Un risparmio di 25.000 euro, ma soprattutto un unico polo museale, anche se gestito da due enti diversi, è in corso e da buon punto il trasferimento del Museo Archeologico di Ariano, l'antiquarium gestito dalla soprintendenza archeologica della Campania, ospitato per anni nello storico Palazzo Renzulli in via Donato Russo Anzani, sta traslocando in un'altrettanto prestigiosa sede a pochi metri di distanza, Palazzo Forte di proprietà comunale e attuale sede del Museo Civico e della Ceramica. I locali a pian terreno fino all'anno scorso erano utilizzati per i master del programma WIP, adesso presso Palazzo Bevere Gamba Corta, e dunque si sono liberati. Si tratta di un edificio storico del XV secolo, restaurato nel 1990, già sede della sottoprefettura fino al 1926. Una scelta molto apprezzata anche dall'architetto Francesca Casule, direttore della soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Per il Comune, che dal 2009 paga anche le bollette, oltre che l'affitto, pur di mantenere la struttura museale sul Tricolle, si tratta di una soluzione che risponde alla primaria esigenza del contenimento e della razionalizzazione della spesa, ed è anche un modo per valorizzare ancora più l'antiquarium, per creare una maggiore sinergia tra le istituzioni museali e di conseguenza una migliore e più efficace fruizione da parte dei cittadini e dei turisti. Basti pensare alle scolaresche in visita, troveranno al piano di sopra il Museo della Ceramica e a quello di sotto l'antiquarium. Potranno così compiere un viaggio nel tempo, apprezzando reperti dal Paleolitico fino ai giorni nostri. La pizza napoletana vola ed entra nel Guinness dei primati. Maurizio Stanco e Luciano Sorbillo, presso il campo volo di Frigento, hanno interamente realizzato una pizza a 1250 metri di quota a bordo di una mongolfiera. Poi, in volo controllato, altri 15 pizzaioli di tutta Italia si sono alternati in una sorta di staffetta per sfornare pizze con i prodotti delle proprie regioni. La giornata è adatta per spiccare il volo? Sì, perfetta. Stamattina è perfetta proprio. Abbiamo zero enti, un po' di foschie, però il volo sarà sicuramente bellissimo. Speriamo bene. La pizza unisce. Io da cinque anni ho avuto il piacere di conoscere questi professionisti del settore che la cosa bella del mondo dell'arte bianca è l'umiltà. Loro ne hanno da vendere l'umiltà e quindi era giusto creare questo evento condividendo insieme con loro. Da dove arrivano questi pizzaioli? Allora, qui abbiamo dalla Sicilia, sono 15 regioni, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, abbiamo il Lazio, abbiamo le Marche, abbiamo la Lombardia, abbiamo la Toscana, abbiamo l'Italia. Abbiamo quasi toccato le nuove, stavamo a 1240 metri. 1240 metri! Com'è andata Luciano, dicci un po'? È terapeutica al massimo, questa è la prova, guardate questa pizza, è ancora morta. Forno spento! Forno spento, fatta, adesso è passata circa un'ora, ma poi il fatto che mi stanno crescendo i capelli... Senza stipendio da luglio e in più preoccupati da cartelle esattoriali con pesanti multe per presunti mancati pagamenti IRPEF 2015. I sindacati venerdì andranno dal prefetto Tirone per parlare della grave e ricorrente situazione dei 276 operai della comunità montana dell'Ufita. Dieci giorni fa si sono riuniti in assemblea per decidere il da farsi. Nel frattempo, l'assessore vicepresidente della comunità montana, Giuseppe De Cillis, si è autosospeso dall'incarico per esprimere in maniera forte tutta la sua amarezza. La storia si ripete, scrive nella comunicazione al presidente Famiglietti, e nell'indifferenza quasi totale tornano a farla da padrone la mostruosità della politica e l'indecenza di una burocrazia ottusa ed incompetente. De Cillis non intravede soluzioni ed è indignato per il dramma quotidiano della sussistenza vissuto dagli operai, inoltre maldigerisce le promesse di qualche politico a livello locale e regionale che, per usare sue parole, ostenta un inesistente interessamento. La realtà, diciamo noi, è che la regione da sempre non eroga con puntualità i fondi e la comunità montana, che è un ente delegato, senza i dovuti trasferimenti, si ritrova impossibilitata ad effettuare i pagamenti. Qualcuno ha promesso che entro il 15 novembre arriveranno gli stipendi, c'è la delibera regionale per 20 milioni di euro, ma ancora non sono stati fatti neanche i decreti, poi c'è tutto il restante iter burocratico, quindi passerà ancora molto tempo. Intanto, sul fronte delle cartelle esattoriali, arriva almeno una buona notizia. Si tratterebbe di un errore da parte dell'Agenzia delle Entrate e quindi per ora gli operai sono stati invitati a non pagare. D'altra parte, anche se avessero voluto farlo, ci chiediamo con quali soldi, visto che non prendono lo stipendio da quattro mesi, quelli a tempo indeterminato, e da cinque quelli a tempo determinato. Nel piano ospedaliero regionale è presente l'ospedale di Ariano Irpino con il DEA di primo livello. Inaugurato il reparto di lungodeggenza dell'ospedale di Ariano alla presenza di tutti i referenti irpini della regione Campania, dal presidente del Consiglio d'Amelio, ad Alaia, Petracca e Todisco, e delle autorità locali in un clima decisamente più disteso e sereno del passato, anche tra i medici. Sembra infatti superato il periodo più buio per il nosocomio arianese quando pareva destinato ad essere declassato e a perdere definitivamente servizi importanti per i pazienti. Il direttore dell'ASL, Maria Morganta, in questa occasione ha annunciato l'inserimento nel nuovo piano ospedaliero regionale di Ariano quale DEA di primo livello. E poi la definizione della pratica per la radioterapia, l'unità operativa di oncologia con quattro posti letto, l'arrivo del decreto per il riaccredito del servizio immunotrasfusionale ed altri 20 posti letto in urologia, oculistiche e dottorinolaringoiatria. È un tassello che aggiungiamo all'offerta sanitaria ma non è l'unica. Io sono soddisfatta appunto di aver potuto inaugurare questo nuovo reparto perché ritengo un reparto essenziale per il paziente e per la migliore gestione del turnover all'interno dei reparti. Perché la lungodeggenza è un reparto post-acuti che serve naturalmente a liberare posti letto nelle aree, nei reparti per acuti e quindi per far fronte a quelle che sono le esigenze dell'emergenza urgenza, ma nello stesso tempo garantiamo la continuità terapeutica. Preannunciavo anche prima la realizzazione, quindi l'apertura anche dell'unità operativa di oncologia con quattro posti letto in ordinario, continuando ad garantire anche per il futuro quello che è il tipo di assistenza che oggi garantiamo con dei hospital. In più oggi insomma siamo un po' felici tutti perché finalmente è arrivato anche il decreto di accreditamento della unità di raccolta sangue fissa ma anche per l'unità di raccolta sangue mobile, quindi l'autoemoteca. Quindi da questo momento in poi riusciremo ad essere autonomi. Pneumatici, paraurti, televisori, pc, scocche di frigoriferi, cassette di plastica, bottiglie e fin anche grosse ossa probabilmente di vitello. Il triste elenco è purtroppo simile a quello fatto tante altre volte nei luoghi più disparati scelti dagli imbecilli di turno per liberarsi della propria immondizia. Questa volta ad essere usati quali di scarica i boschetti di quercia lungo la provinciale 49 che collega Melito Vecchia alla statale 90 al ridosso del fiume Ufita. Silvano, lei tutti i giorni viene a passeggiare lungo questa strada con i suoi cani e non ne può più di vedere questo scempio. Periodicamente scendo qui giù al paese vecchio, una zona che mi appartiene a cui sono legato, dei ricordi, hanno vissuto i miei genitori e un ricordo in più per venirci. Ogni giorno mi sono staccato di vedere questa monnezza che abbonda, abbonda che non se ne può più. Lei cosa si sente di dire a chi fa questo? A chi invece di utilizzare i mezzi più consoni per liberarsi dei rifiuti decide di insozzare l'ambiente? Purtroppo, cara Monica, noi siamo meridionali. Certe cose non abbiamo nel DNA, non cambieremo mai. Noi del sud ci piace vivere in queste condizioni, ho capito questo. È un paradosso perché se tu fai un chilometro a monte, c'è un paese che si chiama Meliterpino, sembra di essere in Svizzera. C'è la raccolta porta a porta, c'è un'isola ecologica. C'è tutto di più, funziona benissimo e appena esci fuori sembra che la gente si scatene. Pneomatici anche nel fiume. Monica, allora non ci siamo capiti, qua la gente, il fiume, non è che lo prende come un bene naturale, una risorsa idrica, lo prende come una discarica a cielo aperto. Tutte quelle gomme che tu vedi, non è che ce l'hanno, ce l'ha un portato di proposito, non è che se l'è portata alla piena, ce l'ha un portato di proposito. E tutto il tratto è disseminato così. Monica, siamo terremotati dentro. Giuseppe De Cillis, vicepresidente della comunità montana dell'Ufita. Lei non solo si è autosospeso dalla sua carica, ma ha deciso di presidiare l'ente finché non ci sarà uno sblocco della situazione. Ricordiamo che gli operai non percepiscono lo stipendio da cinque mesi. Sì, ho voluto prendere questa iniziativa perché ho ritenuto che, nonostante le responsabilità di questi ritardi nell'erogazione degli stipendi e i dipendenti della comunità montana dell'Ufita sia imputabile principalmente e sostanzialmente alla regione campana, l'esecutivo della comunità montana non può lavarsene le mani. Nel senso che sono i nostri dipendenti e noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo come politica locale intervenire per forzare anche la politica regionale. Questo è il senso della mia iniziativa che ovviamente ha dovuto avere come premessa l'autosospensione della Giunta perché la posizione adesso tra virgolette di protesta a sostegno degli operai non ben si conciliava con la posizione di amministratore in carica. Non è possibile che da anni questi operai si ritrovano puntualmente ogni quattro o cinque mesi a dover quasi elemosinare uno stipendio che invece gli è dovuto. Andrebbe risolto definitivamente, però la tendenza della politica legislativa anche regionale non va in questi sensi perché il dramma è questo che mentre si doveva risolvere una questione del genere si è praticamente abrogato un articolo della legge regionale, il 32 penso che sia, che in buona sostanza prevedeva dei tempi di trasferimento dei fondi alle comunità montane. Da quell'abrogazione è praticamente derivato una sorta di arbitrio per la regione e per gli organi regionali nei tempi di trasmissione, di trasferimento. Intervento dell'impresa che si era giudicata all'opera di rifacimento delle strade arianesi per rattoppare le numerose profonde buche apertesi sul tratto urbano della Statale 90 nei pressi della casa circondariale, tutto con la supervisione dell'ufficio tecnico comunale. Ma l'intervento, seppur arrivato con celerità, non placa le polemiche ad Ariane Orpino. Cittadini ed automobilisti si chiedono come sia possibile che a quattro mesi dal rifacimento totale del manto stradale l'asfalto abbia già ceduto in questo modo. Sono bastati un paio di acquazzoni per ridurre così un tappetino nuovo nuovo? È lecito chiedersi a questo punto come siano stati realizzati i lavori, se siano stati realizzati al meglio. Come è lecito chiedersi se un po' d'acqua ha sortito questo effetto, cosa accadrà con le nevicate, le gelate ed il conseguente cospargimento di sale? Facile immaginare che a fine inverno Ariano si ritroverà di nuovo con le strade gruviera e pensare che il Comune ha speso oltre 550 mila euro per il rifacimento di buona parte delle strade comunali e che i cittadini hanno subito notevoli disagi tra polvere, rumori e traffico nel corso dei lavori. Si complica ulteriormente la situazione delle lavoratrici impegnate sull'appalto di pulizia del Comune di Ariano Urpino. La cooperativa che si è aggiudicata all'appalto con il 15% del ribasso intende ridurre da 12 ore e mezza a 7 ore settimanali l'impegno delle lavoratrici che a questo punto si vedrebbero dimezzati anche i guadagni. Dunque l'aver investito 10 mila euro in più su questo appalto da parte del Comune è servito a ben poco. Questa sera nuovo incontro con la cooperativa, intanto le operaie questa mattina si sono confrontate nuovamente con l'assessore Filomena Gambacorta. Non ci sono una variazione né dei costi in quanto l'appalto ha la stessa entità economica e le superfici anche se con modalità diverse però sono uguali a prima, solo che ci si viene prospettato, un taglio dell'orario di servizio pari a quasi il 50%, intorno al 45%. Poi abbiamo scoperto che tra le vecchie procedure di affidamento alla ditta precedente e questa all'attuale c'è nel corpo della delibera comunale il taglio proprio della norma di garanzie perché prima era prevista che per questi lavoratori l'orario minimo fosse quello preesistente e c'è delle due ore a me. Invece in questa delibera stranamente è scomparsa solo questa frase che di fatto tutela le lavoratrici e anche la qualità del servizio perché se uno lavora di meno ovviamente il servizio sarà di pessima qualità. L'amministrazione chiaramente al fianco delle signore che da anni lavorano per noi ha raggiunto l'obiettivo innanzitutto quello di affidare il servizio, di garantire il totale riassorbimento adesso lavorerà per garantire il maggior numero possibile di ore di lavoro per le signore. È chiaro che adesso abbiamo questo obiettivo. Ariano Irpino da sempre è considerata città ricca di offerta ricettiva e commerciale per il settore wedding, ospita per il secondo anno consecutivo a nozze d'autore, uno dei saloni della sposa più grandi della provincia. Nella elegante cornice del Grand Hotel Biffi due giornate oggi e domani. 34 espositori provenienti da tutta la campagna e parte della Puglia mostreranno il meglio del mondo della sposa e di tutto quanto ruota intorno al matrimonio. Domani alle 17.30 spettacolo finale con musica, cabaret, defile e moda, ospite d'eccezione il bellissimo Mario Ermito direttamente da tale quale show. Questa mattina a taglio del nastro da parte del sindaco di Ariano, Mimo Gambacorta. Questo è il secondo anno che abbiamo scelto Ariano Irpino e quest'anno abbiamo scelto il Grand Hotel Biffi perché diciamo che Ariano è la madre del matrimonio. Sono per pochi che stiamo portando avanti in marchio nostro d'autore, però i successi che abbiamo avuto di Ariano non li abbiamo avuti in altre location. Signor Pannese, capostipite di questa bella famiglia che si occupa di wedding da tanto tempo, Ariano è la capitale del matrimonio. Certo, l'abbiamo costruite noi queste attività, grazie a Dio sta funzionando tutto. Sindaco Ariano ha tutto titolo la capitale del wedding. Sì, devo dire che si conferma ormai da tanti anni, si consolida questa fama che ha consentito qui a Ariano a tante coppie di almeno celebrare il matrimonio, la parte delle nozze con le fotografie in villa, con la presenza in ristoranti importanti. Questa manifestazione è una manifestazione importante perché mette in moto e fa circolare informazioni su tante aziende, tante aziende artigiane del nostro territorio che nel settore dell'abbigliamento, nel settore dei servizi, in qualche modo si propongono ad un mercato anche più ampio di quello della regione Campania.